TikTok è una generazione molto arrogante, perché mentre gli youtuber, che è un po' una nerd culture, gente che pensava, che realizzava il video, che lo editava, registi, montatori, c'è tutto in un'unica persona, quelli che fanno TikTok non sanno fare niente, girano il telefono, fanno un video, fanno un milione di views e li scoreggia il cervello, e a proposito delle scoregge, te lo dicevo prima, gli ho detto ragazzi, il successo è come una scoreggia davanti al ventilatore. Giulio Gaudiano! Giulio Gaudiano! Giulio Gaudianoенного Giulio Gaudiano Sono una persona nata a Parigi, ho studiato lì fino alla maturità, quindi mi sono diplomata a 17 anni, sono andato in prima elementare a 4 sono venuto a vivere in Italia in Brianza è stato uno shock pazzesco quindi in mezzo alle pecore dopo 6 mesi appena ho compiuto i 18 anni ho cominciato a fare 3 lavori facevo il caddy al golf il pomeriggio per gognarmi un po' di soldini lavoravo con mio nonno in una concessionaria di pubblicità e facevo la sicurezza nei locali per potermi permettere di andare a Milano di avere una vita che assomigliasse un po' come ritmo a una metropoli come Parigi e devo dirti che ho cominciato a lavorare quindi subito mio nonno mi ha buttato nel mondo del lavoro io parlavo un italiano un po' approssimativo chiaramente ho imparato a scriverlo con il T9 ai tempi ricordo faccio sempre dei riferimenti ai cellulari non avendone più uno mi sembra quasi una cosa un po' arcaica e quindi nulla ho imparato a parlare meglio l'italiano e a buttarmi nel mondo del lavoro e quindi mettere un doppio petto a 18 anni con la valigetta dove sembrava un rappresentante di carta regalo quindi a dover diventare subito un adulto molto velocemente ho sempre avuto una modalità di uno che si arrangia e che se ha un sogno un obiettivo trova il modo di raggiungerlo per esempio mio papà mi dava la paghetta quando ero piccolo io adoravo i videogames e quindi il modo per giocarci perché c'erano i giochi elettronici ai tempi però c'erano le sare giochi quelle figate che oggi non ci sono più e quindi lui mi dava la paghetta però ero talmente compulsivo e che finiva presto allora in quel momento ho preso le mappe del quartiere du 16e arrondissement che è diviso in 20 arrondissements a Parigi e mi sono inventato quindi camminavo a Vigna Grande Armée in un violone grande e dicevo alle persone guardate sto facendo una raccolta per la scuola faremo un pièce teatrale una rappresentazione teatrale faccia uno si senta libera di fare l'offerta che vuole le raccontavo tutta una storia una cavolata e avevo le tasche piene di monete da 5 franchi quindi mio padre mi diceva ma dove li hai presi questi soldi quando aveva capito come quindi che non era illegale mi aveva dato il permesso di poter andare in strada gioca e ho detto vabbè se te li sei guadagnati impari una cosa nuova impari a cavartela poi ho fatto mille lavori per cercare sempre di poter ottenere ciò che volevo quando sono venuto in Italia era il mondo del lavoro vero significa 24 hours e lì è stato complicato perché quando hai quell'età gli amici escono il sabato io non me la sono mai vissuto veramente quell'infanzia lì del divertimento quindi mi sono buttato a capofitto nel lavoro e un po' la fortuna perché quella serve però se non la sai amministrare non ti sei neanche reso conto che è arrivata da te e quindi all'età di 19 anni e mezzo ho cominciato a guadagnare 30 milioni di lire al mese quindi mi è andata bene subito e tutto è nato da una cosa strana che ho già raccontato ma se vuoi te la racconto il mio grande insegnante del lavoro è stato mio nonno materno che aveva questa concessionaria di pubblicità è stato uno degli inventori del festival di Sanremo è una persona molto intelligente con un grandissimo intuito e fondamentalmente mi sono perso hai imparato il lavoro da tuo nonno sì però mi sono perso su quello che ti volevo dire perché stavo immedesimandomi nell'emozione di mio nonno e sì ecco fondamentalmente mio nonno viene a mancare e una sera vado in una discoteca a Milano e vedo una ragazza che massacra di botte un uomo e questo mi sciocca e non due sberle proprio in modo molto molto tosto e la mattina dopo dico aprirò la prima agenzia di sicurezza femminile in Italia e tutto comincia così quindi mio nonno non c'è più e quindi non posso dare un prosieguo al lavoro di vendere pagine tabellari nelle testate e quindi apro questa agenzia di sicurezza femminile perché non potevi dare un prosieguo non potevi rilevare l'attività diciamo che mio nonno aveva un figlio ha un figlio mio zio e poi un nipote mio cugino che hanno lavorato con lui per tanti anni per loro io ero un pischelletto eri l'ultimo arrivato ero l'ultimo arrivato ma i miei genitori mi hanno educato da non pretendere ma dimostrare per ottenere quindi non mi dava fastidio non sposavo la mentalità di mio zio non credevo che le sue visioni quelle che aveva condiviso fossero in linea con quello che mio nonno aveva costruito ha chiuso poi dopo poco mio zio e non era un mentore cioè io purtroppo non ho mai lavorato per altri se non per mio nonno per un anno e non ho mai imparato ciò che ho imparato in tutti questi anni facendo tantissimi errori e quindi ho detto mi voglio mettere in proprio ho provato all'inizio a fare la mia concessionaria di pubblicità quindi con gli editori con cui avevo costruito un bel rapporto vedevano in me uno bravo però lì non c'era più il venditore lì dovevi fare l'imprenditore ed era non ero all'altezza ero troppo giovane era presto per te ho cercato la mia segretaria su seconda mano non sapevo non sapevo cosa volevesse dire Ed Hunter agenzie interinali e avevo ero arrivato da Parigi un anno e mezzo prima certo e quindi apro la prima agenzia di sicurezza femminile diciamo che ho sempre cercato di fare qualcosa che potesse stupire per avere immediatamente quell'esposizione che posiziona una cosa se è valida un mio amico fa il giornalista mi fa un trafiletto sulla Repubblica e da lì mi chiama la Cuccarini a Tele più Verissimo ancora le VHS e racconto questa cosa ma la raccontavo in maniera molto più grande di quello che era perché tendenzialmente non era niente e Verissimo mi dice bene sabato veniamo a farti un servizio in un locale dove hai le tue ragazze quindi io non avevo né ragazze né locale e quindi in tre giorni sono andato in tutte le palestre un po' di diciamo di fighting ma senza cercare ragazze che fossero il buttafuori quindi persone che potevano ragionare ma che potessero essere anche fisicamente credibili vado a comprare dei bomber li faccio immediatamente customizzare chiamo un amico e dico trovami un locale li porto Verissimo trovami un locale di far finta che lavora con me da tempo insomma tutta sta pantomima funziona benissimo va alla grande e da lì mi si apre un mercato quindi mi intervistano molte persone con la mia rimoce da francesino io ero timidissimo imbarazzatissimo ma soprattutto mi cominciano a chiamare concerti politici per fare scorte mi si apre un mondo fin troppo grande non l'avevo previsto ok dopo un anno qualcuno mi compra l'azienda ma l'azienda voleva dire un brand non registrato non sapevo neanche che si potessero registrare e mi dà 130 milioni di lire per me era una somma che non avevo mai avuto nella mia vita e quindi vendo questa azienda ma nel frattempo servendo i locali i locali mi dicevano ma conosci delle cubiste ma conosci quello quindi io mi sono sempre inventato una cosa che non avevo ma poi deve essere molto bravo nel giro di tre secondi a costruirla quando te la comprano ecco infatti due cose emergono numero uno che differenza c'è secondo me non farmi troppe domande generiche sennò ti tocca dormire qui perché ti tengo qua a 20 ore scusami che differenza c'è tra un visionario e un impostore cioè ti ha messo mai in crisi personalmente questo fatto di vedere le cose e venderle anche quando non ci sono perché magari tu comunque le vedi o sai di poterle fare o dici in fondo che ho da perdere al massimo fallirò ti ha mai personalmente messo in crisi perché molti non fanno le cose perché dicono no ma io hanno la sindrome dell'impostore o forse realmente non le sanno fare invece tu hai sempre guardato avanti immaginato qualcosa che non c'era come la vivi internamente che cosa succede nella tua testa ma allora un visionario è una persona che vede le cose è pieno di visionari poi il vero visionario quello di cui dobbiamo parlare in generale è colui che poi ha fatto quella cosa la puoi commentare l'impostore è un truffatore quindi è una persona che ti ha truffato il tuo denaro che non ha fatto quello che ti aveva detto che avrebbe fatto chiaramente quando mi si illumina qualcosa o un click nella mente non ce l'ho su una cosa che non conosco ma ce l'ho su una cosa che stavo già approfondendo e appena capisco io non ho mai inventato niente nel 2008 siamo stati i primi in Italia in Europa magari nel mondo mi sembra addirittura nel mondo che abbiamo dato una professione a questi ragazzi che facevano contenuti sui social nello specifico su YouTube tendenzialmente stavo già lì con la mia testa non sapevo esattamente come sarei arrivato a meta ma conoscevo la meta e la rimettevo in discussione tutti i giorni quindi quando ho il click nella mia testa sento che ho costruito una cosa a cui non aveva mai pensato nessuno adesso abbiamo fatto The House non ho inventato le concept house sono partito da Los Angeles ma l'ho modificata ho sempre aggiunto ingredienti di altre cose che vedevo e le ho messo insieme più elementi e ai tuoi occhi è una cosa unica che tu non hai mai visto ma quella ti potrei dare le 5 reference per cui quella cosa esisteva già l'ho semplicemente migliorata migliorata volendoci mettere lo stupore la visione è come posso impressionare una persona prendi l'esempio di un negozio se vado in centro in qualsiasi città più o meno o cerchi quel flagship store quel brand lì o sennò cammini per fermarti proprio lì e tu devi fare qualcosa di diverso io ho sempre pensato io devo catturare la tua attenzione mentre passi perché magari non ripasserai mai più e quindi ho sempre cercato di metterci quello show in ogni singola cosa che ho fatto un po' come magari adesso oggi sono particolarmente stanco però il carisma che metto nel raccontartelo lo metto anche nella mia visione quindi quando mi scatta la visione che mi chiedevi prima e sono adrenalinico mi emoziono sento qua che ho una bomba tra le mani e non pensa ad altro la voglio fare subito non dormo la notte trovo tutti gli ingredienti e non sono mai stato un impostore perché avendo sempre studiato e approfondito e sapevo già dove andare a cercare la mia materia prima per portare poi a come dire a in modo pragmatico quello che avevo venduto a quella persona mi sono sempre presentato in modo perfetto poi l'ho cambiata durante l'ho cambiata sempre ma la grande visione quindi youtube mia moglie mi diceva ma tu che cazzo fai tutta la notte che scrinciotti con il tuo ipad perché poi guardavi correlati quindi mappavo l'italia non mi rendevo neanche conto di dove andavo ma sentivo dentro di me non era una cosa razionale era una cosa emotiva ma quell'emozione non mi sono mai sbagliato o quell'emozione non si è mai sbagliata quando la sento è sempre stato qualcosa di grande la differenza tra oggi e prima è l'esperienza e il fatto che non sono più solo perché prima pensavo a queste cose ero solo ero solo a venderle ero solo a costruirla ed era complicato ecco questa emozione che tu hai descritto questo processo è la malattia della creatività ed è una cosa della quale gli stessi creativi diventano dipendenti in un certo senso perché genera proprio addiction genera dipendenza perché hai questo piacere che ti inonda il corpo quando c'è un click tra quello che stai ruminando nella tua testa e quello che vedi allora la prima cosa che ci portiamo a casa è questo tema della visione cioè non c'è niente di mala ad avere visioni ma attenzione a vivere solo di visioni perché poi quelle cose vanno messi a terra quindi il creativo ha una visione ma poi ragiona anche su come trasformarla in realtà la seconda cosa l'hai già detta due volte nel tuo racconto il secondo processo mentale a me piace molto diciamo hackerare la testa delle persone smontarle e capire come funziona tu hai in maniera spontanea fatto il processo del what if cioè hai preso non hai creato qualcosa dal nulla hai detto tu stesso io non mi sono mai inventato niente prendi qualcosa e dici e se questa cosa fosse diversa e se gli pneumatici fossero gialli chi l'ha detto che devono essere neri un po' come la apple a un certo punto hai detto ma perché le cuffiette devono essere nere potremmo farle bianche no tu hai detto perché la sicurezza deve essere maschile può essere femminile e genera l'effetto wow perché la content house deve essere fatta in un certo modo può essere fatta in un altro questa cosa è uno strumento un esercizio di creatività potentissimo perché perché l'essere umano non conosce ma riconosce quindi tu hai la possibilità di spiegare agli altri di fargli capire quello che è perché non lo porti troppo fuori dalla loro zona di comfort un problema per cui molte startup falliscono miseramente che ti inventano qualcosa di talmente avanti che non riesci a spiegare ma dici ma che stanno a fare questo e questo è il punto se non sai raccontare non per come lo pensi ma per come lui lo può capire tu non farei mai niente quindi ad ogni interlocutore racconto la mia visione in modo diverso perché so la testa che ha da che mondo proviene e se io parlo con lui voglio dire che lui può essere un tassello fondamentale per farmi costruire quella cosa e per far materializzare le mie visioni devo venderle a qualcuno e quindi io sono una meretrice dentro perché se non vendo quella cosa a qualcuno quella cosa non succederà quindi mi contraddico mi auto contraddico continuamente prima di raccontarla e penso a tutto quello che mi potrebbe dire nel mio interlocutore e cerco già di prevederlo lo raffini ogni volta che lo racconti ogni volta che parlo con qualcuno quando per me ti lancio la bombetta e vedo che non ti illumini dico cavolo devo cambiare questa roba qua non funziona la riprovo in modo diverso un altro dico no proprio questo argomento non piace a nessuno e continuo a cambiarlo sempre finché non non riesco adesso sembra che parliamo di ipnosi però se vedo che io affino la mia tecnica per raccontare quella cosa ogni singolo giorno anche dopo anni per migliorarla sempre di più mio padre da piccolo mi insegnava sempre non raccontare qualcosa fin quando non l'hai fatto non l'hai fatto certo e questo è collegato al fatto che lui è un ingegnere e quindi ha paura di sbagliare perché se sbaglia casca un palazzo e muore muoiono le persone ci stanno dentro nel campo della creatività invece l'errore è fondamentale ce lo stai dicendo hai sbagliato hai imparato i tuoi errori e questo in poter sbagliare avere il permesso che ci diamo di sbagliare avere il permesso che impariamo dalle persone che ci educano a sbagliare tutte le volte che vogliamo ci dà la possibilità di raccontare le cose anche quando non esistono ancora quando sono imperfette l'errore penso che sia un grande privilegio dipende come lo vivi molti nascondono l'errore o non lo vogliono vedere loro stessi non potrei mai progredire per noi ogni volta che sbagliamo vuol dire che abbiamo fatto un sacco di cose e il fatto di di poterle analizzare io dico sempre ai miei non sarò molto ricco di complimenti non vi dico una cosa dove siete non vi dico dove siete bravi lo sapete già vi dico dove possiamo migliorare e quindi il fatto di poter avere questa analisi costruttiva ogni giorno io faccio errori tutti i giorni e questo ci permette di crescere per me l'errore è un'emozione pazzesca io non mi vergogno di dirti non l'avevo proprio vista quella cosa lì ed è per questo che ti dicevo prima io mi sentivo solo quindi tutto quello che facevo poteva essere una buona media piccola intuizione ma non aveva mai il massimo della sua potenza perché non avevo nessun contraddittorio di fianco a me che poteva dirmi io la vedo diversamente questa è la fortuna invece che oggi ma quelle persone con cui riesco a confrontarmi sono pochissime nel senso le persone che io chiamo speciali quelle persone che non sono committate dal denaro ma dall'amore per quel progetto lì è rarissimo trovare gente capace innamorata di quello che stanno facendo che non hanno nessuna priorità più importante di quel progetto lì e io sono molto molto fortunato ne ho due barra quattro c'è due super 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 fedeli soci e altri due che lo diventeranno presto e che sono stati dei classici dipendenti mi hanno fatto vedere che brillavano giovanissimi 26 e 28 anni tra l'altro quindi è questa la mia fortuna sono alla ricerca di gente speciale quindi quando vedo qualcuno che magari vado dal panettiere e vedo che quella persona ha qualcosa gli dico ti posso parlare e questo a volte mi prende per passo mi dice chi sei tu e lì ho portato e lì ho conosciute così le persone migliori nella mia vita quindi poi ci sono diversi gradi di brillantezza di essere speciali però mi sono sempre poi te lo dicevo prima di questa chiacchiera oltre alla brillantezza ho bisogno di avere delle persone belle pulite dentro persone profonde d'animo persone che sappiano amare amare vuol dire non distruggere vuol dire mettere veramente il sentimento più potente che tu hai nella relazione e nelle cose che stai facendo quindi il fatto di poter avere intorno a me e qua parlo della squadra che lavora intorno a me tutte persone che ho scelto ma anche emotivamente caratterialmente è per me la corazza più grande più grande che ho è la cosa più potente che io posso avere di cui sono molto geloso e se dovessi perdere gli elementi più importanti che ho quindi le due persone speciali e non ne trovassi altri nel frattempo smetterei di lavorare farei altre cose perché non potrei più lavorare io quando ero ragazzino lavoravo perché volevo dimostrare volevo che mio padre fosse fiero di me cosa volevi dimostrargli? qua stai toccando il punto più debole il mio podcast quello che io faccio one more time è la mia terapia mio padre ha fatto la legione straniera era un uomo molto duro non mi ha mai detto che mi voleva bene mi è mancata questa figura che era il mio idolo che non è più in vita che mi dicesse bravo e non so se è per stimolarmi o perché ero veramente una sorta di fallito o magari un ribelle il fatto che lui non me lo abbia mai detto è come se tutti i giorni cercassi dagli altri un'approvazione un segno dove ti fanno capire che stai facendo bene mia mamma mi riempie così tanto di complimenti non che quasi io non la credo però è sempre stata così generosa che io ho bisogno di quelli che sono avari perché so che se me lo dicono loro vale tanto quella roba lì e quindi sono sempre stata alla ricerca di questo quindi spesso alla domanda perché fai tutto questo non ho mai avuto la risposta oggi mentre prima rincorrevo per dimostrare all'universo per far sì che magari mio padre mi desse un segnale oggi non lo faccio più per questo perché ti fa sentire molto a disagio il fatto di aver bisogno di approvazione perché sei insicuro quando sei così e questo ti mette mi dicevano sempre ma perché tu riparti sempre dall'inizio quando spieghi una cosa e gli racconti le cose che hai fatto perché avevo paura di non essere preso sul serio esattamente come quando a 18 anni avevo il mio doppio petto la valigetta e sembravo un coglione perché non avevo le physique du rôle per avere quel tipo di come dire di outfit ma è più metaforico no? e oggi io il mio obiettivo di vita è lavorare divertendomi godendomela perché ho 44 anni e diciamo che ho fatto tante cose belle nella vita ma non ho costruito niente se vuoi no? e mi spiego meglio diciamo che sono stato un imprenditore dell'intermediazione se vuoi perché gestivo persone della sicurezza poi gestivo delle cubiste e poi i personaggi della televisione poi i creator ma ho aperto un'impresa per portare la mia expertise quindi una visione artistica imprenditoriale prendere in me contro te che sono due ragazzi che fanno la pizza con le caramelle farli diventare il più grande fenomeno kids e guadagnare una percentuale dell'entroito che io gli porto dovendo assumere decine di persone in ufficio per generare quella cosa ma se loro sono in me contro te lo sono diventati per il loro talento e per la mia visione ti faccio un esempio molto semplice prendiamo una discoteca siamo a Milano ti ho detto l'all fashion prendiamo l'all fashion facciamo finta che parliamo col proprietario dell'all fashion nove mesi prima che nasca l'all fashion in Italia ok? a Milano lui cosa deve fare se vuole far sì che il suo locale funzioni dovrà prendersi il miglior PR della città per riempirgli il locale con il target che lui vuole per quel locale e il PR gli dirà guarda allora fammi entrare anche nel modo in cui arrederai questo posto perché se devo vendermi questo prodotto deve essere perfettamente in linea si chiama all fashion solo perché ci sono stati quei PR lì e senza quei PR non sarebbe stato l'all fashion e a un certo punto che cosa succede? e quindi quello dell'all fashion dice ti do una percentuale per fare questo ti do il 30% sull'incasso e quello dice ma quando il locale va bene che bello però poi a un certo punto esiste un pensiero nella testa di tutti e due il PR dice ma mi apro il mio locale non ho bisogno di fare questo deal con qualcuno ormai so fare tutto io il problema è che lui è molto bravo a fare il PR ma non è un imprenditore il suo locale fallirà e il proprietario dice ma non ho più bisogno di dare quei soldi a questo cuore ma io sono l'all fashion funzionerò e non funzionerà e chiuderà adesso voglio l'all fashion era una reference non che sia accaduto quello ma ti dico quello che succede nella testa di persone quindi il creator noi eravamo il PR che rendeva l'all fashion quello che è che abbiamo reso in me contro te Favij tantissimi personaggi del mondo del web quello che sono per guadagnare una percentuale e per metterti all'asta quando scade il tuo contratto quando tu hai costruito quello che loro sono quindi la verità è quando hai l'intuizione che me contro te diventano questo fai la me contro te SRL il 50% di questo lo dai a me il 50% lo prendi tu perché insieme abbiamo reso possibile quello che oggi è sotto gli occhi di tutti e noi ci siamo separati perché quando li abbiamo portati su Disney Channel li abbiamo fatti diventare un brand abbiamo fatto l'Isting abbiamo venduto 20 milioni di prodotti loro alla fine del contratto hanno deciso andiamo avanti da soli perché comunque era un contratto di gestione è un contratto di management oggi non faccio più questo mestiere oggi a 44 anni voglio costruire degli asset qualcosa di mio quindi la Def House esattamente come tanti altri progetti è un mio progetto e lo condivido con tutte quelle persone che potranno far sì che questo progetto quindi l'equity ce la dividiamo ma non che io metto in affitto le mie competenze e l'asset rimane tuo quindi in quel senso non ho costruito niente ho fatto arricchire di sapere e di denaro tante persone vale anche per me ovviamente però in mano non ho nulla di tutto questo e oggi il lavoro che voglio fare è fare molte meno cose mettere l'efforto delle mie persone più speciali su poche cose ma cose che ci appartengono chi è che ti ha fatto capire questa differenza la differenza tra comunque sì fare le cose e starci in mezzo però guarda c'è una cosa che si chiama società e quando tu prendi le quote sei siedi magari decidi ma anche magari non decidi però quando i soldi finiscono in tasca quando si fanno i dividendi prendi i dividendi anche tu cos'è dove l'hai imparato questo? la tua è una formazione economica hai avuto un mentore l'hai studiato su youtube dove l'hai portata a casa? ma sempre da da brutte notizie accadute quindi da ogni ogni volta che ti sembra di cadere anziché entrare in quell'emozione distruttiva analizza perché sei arrivato lì quindi i click mi succedono ogni volta che mi succede qualcosa di brutto quindi hai sbagliato e hai detto come faccio a non far riaccadere questa cosa? esattamente quindi tendenzialmente ti faccio un esempio dove finisce il mio lavoro precedente nel gestire personaggi del mondo della televisione grande fratello 12 i ragazzi che andavano a fare il grande fratello ad un certo punto quando il grande fratello è diventato un business vuol dire che capivano che non era solo il programma ma che quelli facevano serate facevano testimonial di brand facevano tante altre cose hanno cominciato a fare in modo che tutti i ragazzi che entravano a far parte del grande fratello dovessero essere liberi da contratti di agenzie e cedevano tutti i loro diritti alla casa di produzione la casa di produzione rivendeva il cartellino di ognuno a coloro che erano interessati ed era un po' un si era creato diciamo secondo me molto caos un po' un'asta quindi non si guardava più molto il merito di quello che poteva veramente far crescere un artista perché aveva una visione aveva un'esperienza ma magari si guardavano un po' come magari anche nel calcio quando una società venne un giocatore è una questione economica il fatto che possa vincere un'altra squadra non gli interessa e gli interessa avendo fatto crescere un personaggio chiaramente massimizzare il profitto della vendita di quel cartellino allora a un certo punto dopo 3-4 anni ho detto a Endemol guarda facciamo così voglio comprarlo tutto io il programma quanti soldi vuoi e quindi hai un unico punto interlocutorio e io riesco a fare meglio il mio lavoro perché riesco a programmarlo prima perché poi quei personaggi dei reality sono molti in auge quando sono dentro ma dopo due settimane quando escono non hanno neanche più un cognome sono nome di quell'edizione del grande fratello quindi il business lo facevi prima quando l'hyper era alto allora per poter fare dei deal prima con i brand per poter pianificare il lavoro dalla loro uscita in poi lo devi fare quando sono dentro al programma e quindi ho deciso di fare quella cosa quell'anno il programma va malissimo quando dicevo ai brand guarda Luca Delgra mi dicevano cambia discorso grazie quindi ho detto wow io ho fatto un investimento enorme ho tutta la mia azienda committata solo soprattutto su quel prodotto e alla fine anziché star lì a leccarmi le ferite da lì ho detto ok è un'opportunità anziché star lì a dire dove posso andare a prendere i rimasugli ho detto ok lavoravo con Barbara D'Urso con la Santarelli con Matteo Viviani e gli dico ragazzi è il momento di The Blonde Salad facciamo un blog Barbara tu ti chiami Carmelita facciamo entrare le persone nella tua vita non mostriamoli ciò che vedono in video sei così esposta che lo sanno già mostrali chi sei tu come fai in quel momento a 55 anni a essere così in forma cosa mangi come ti alleni quanto dormi fammi entrare a casa tua e da lì ho switchato quindi ho preso un pezzo del mondo in cui ero sono andato dall'altra parte e poi quindi lì è stato il primo petting con il mondo del social media nel senso del social network e lì poi ho capito dove c'era il difetto perché quando raccontavo i brand facciamo un branded content ti parlo di branded content ma dieci e passa anni fa era ramaico lo chiamavano lo chiamano ancora placement però insomma e quindi quando li portavi sul blog facevi pochi numeri perché dove come portavi la gente sul blog usavi il loro social che era twitter ai tempi e tu che conosci molto bene la materia quando io vado a vedere la performance del tweet e la conversione verso il blog mi perdevo il 92% quindi guardando il google analytics era peanuts allora ho detto lo dobbiamo fare sul social ma twitter non è sexy perché è un sms andiamo nel mondo visivo facebook e quindi però i brand che dovevano mettere del denaro per far fare a uno di questi talent un'azione sul social ovviamente non erano abituati quindi per loro era centinaia di euro e quel talent di una certa caratura ovviamente non era d'accordo allora ho detto ma sai che c'è è da un anno che lavoro con Matano non me lo ricordavo neanche perché quando all'inizio avevo preso Matano faccio tanti esperimenti quindi un anno prima presi Matano e mi sono reso conto che ce l'avevo già colui che era nato sui social non quello che era emigrato e allora da lì abbiamo fatto il primo branded content con Telecom 1254 faceva scherzi telefonici perculavamo i tipi del call center in modo etico e lì ho capito che quindi allora la grammatica era giusta perché prima quando ricevevi il brief dal cliente ti diceva lui creativamente cosa dovevi fare snaturavi completamente quel mondo che non conoscevano ho affinato la tecnica ho affinato la tecnica e poi dopo siamo arrivati a Webstar Channel e oggi allora io scusa io apro tante parentesi come ti ho trovato sono andato a scavare su seconda mano negli annunci cercavo una una bodyguard no allora vado a scavare chi c'è dietro questo personaggio scava 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 a un certo punto trovo Luca Casadei poi vado a scavare dietro un altro poi vado a scavare dietro un altro ancora cioè tu stai dietro tantissime persone che hanno avuto successo nel mondo digitale ma il tuo nome non esce mai o meglio devi andare molto a scavare per trovarti allora questo mi ha colpito perché è un mondo in cui tutti si parla personal branding tutti vogliono apparire dire sì metterci la firma sono io cosa che ti fa stare dietro è una strategia vincente perché ti permette di sviluppare di più la persona che metti davanti sei una persona estremamente umile talmente umile che vuoi scomparire come fai a vivere dietro essendo contento di vivere dietro cosa si vede da dietro perché sono terrorizzato dal successo il successo è caotico per la mente dell'essere umano una delle più brutte malattie del pianeta il mio podcast si chiama One More Time e parla con persone molto note dei tre atti ma del successo quindi quanto tu ti senti glorioso in quel momento il fallimento quando perdi tutto e poi la rinascita il successo è un po' come avere un cellulare il fatto che tutti ti possono raggiungere anche se tu non vuoi rispondere ma vedi il nome sul display e ci pensi il successo vuol dire che tu sei la portata di tutti vuol dire che tu cammini per strada e devi obbligatoriamente regalare sorriso attenzione a chiunque anche a una persona che ti strattona anche a una persona che ti parla male perché se non lo fai sei visto che siamo in un paese di perbenisti sei una cattiva persona è una schiavitù questo è il successo vero e ci sono due tipi di successo io penso che ci sia un successo nascosto e un successo esposto faccio un esempio Berlusconi è un successo esposto quindi un uomo che lo sa reggere tra l'altro quindi una persona carismatica in maniera incredibile che ama probabilmente uno dei più bravi adesso non guardiamo degli episodi però a saper vivere in quella cosa e poi ci sono delle persone altrettanto potenti Cairo che hanno un enorme successo ma sono completamente defilate parliamo del presidente di una squadra di Serie A che quando tu lo vedi anziché avere tutti i suoi emissari intorno a lui seduti sulle poltonocine lui sta in piedi da solo allo stadio come se fosse non lo so un bidello e parliamo nel mondo dei media visto che ho parlato del mio più grande mito imprenditoriale Silvio Berlusconi parliamo di una persona nel mondo dei media estremamente potente come Cairo quindi ho visto sugli altri avendo lavorato dietro a persone che hanno avuto tanto successo qual è stata la conseguenza di quel successo quindi molte persone magari hanno perso tutti i loro affetti perché poi un segreto è rimanere tenerti ancorati gli amici quelli di quando non eri nessuno perché loro ti tengono radicato a quello che tu sei alla tua essenza e quando cominci a allontanarli vuol dire che tu non hai più voglia che nessuno ti dica veramente ciò che sei in quel momento ma vuoi sentire soltanto persone che ti osannano perché possono lucrare della tua vita vivendoci dentro quindi beneficiare di tutte le facilities che la tua vita ti sta dando ho visto persone che sono cadute nelle droghe nell'alcol in tante cose ho visto tutto quel successo che a un certo punto ha consumato loro e io questo non lo voglio io non mi voglio mettere a disposizione del mondo io non voglio che ti ho chiesto se era poi tu mi hai detto che ci tenevi a fare il video e io ti ho dato la mia disponibilità per essere qui e non volevo dettarti le mie regole però preferisco stare nascosto e il podcast mi mette a mio agio perché non hai una voce che ti guida che ti dà degli elementi ma non ci metto la faccia quindi rimanere nascosto come non avendo un telefono nessuno mi può raggiungere io ci sono dei periodi in cui vivo in Italia dei periodi in cui vivo in altri posti ma per chi lavora con me non si rendono neanche conto di questo e il fatto di non essere a disposizione del mondo ma a disposizione delle persone che amo e non dovere dare quello che la gente pretende solo perché tu sei noto per me è la ricchezza vera quindi il successo esposto è una devi avere i coglioni per saperlo reggere e io ne ho conosciuti pochissimi che li hanno e io non sapendo se li ho non mi ci voglio neanche mettere questa è la verità mi hai nominato Matano mi hai nominato i miei contro te mi dici qualche altro nome delle persone con le quali hai lavorato che sono diventate importanti nel mondo dei social media del web Favij io quando parlavo con Favij aveva pochissimi iscritti aveva i cappelli davanti agli occhi doveva compiere 18 anni è venuto a incontrarmi con suo papà lui abitavamo a Panno di Caselle in provincia di Torino suo papà ci dà le spalle dice la persona intelligente di casa e lui parlate con lui e lui era perfettamente inconsapevole e io gli ho detto tu sarai il nostro cavallo di Troia perché sei esattamente il prototipo del ragazzo normale non sei più bello di un altro non sei più bravo a giocare ai videogiochi di un altro sei talmente timido che quando orecchie la tua terapia ti illumini sei felice contaminerai tutti i ragazzi un po' dico a sociali vuol dire persone che non hanno molta vita sociale a mettersi in gioco ad avere una grande opportunità quindi Favij con cui lavoriamo con cui lavoreremo perché è una persona che è diventato un uomo è diventato un imprenditore ha capito quello che ti ho spiegato prima dei Me Contro Te i Mates il più grande collettivo che ci sono che c'è in Italia uno di loro è una delle mie due persone speciali Giuseppe Greco è il mio socio il direttore creativo ho visto come lui ha educato dei ragazzi buoni dentro ma indisciplinati li ha messi insieme li ha fatti diventare una macchina da guerra e io ho detto a me serve una persona come te nella mia vita e la Sabri Federico Clapis adesso mi mette un po' a disagio questo palmarès quindi ti ho parlato di tante epoche no? perché poi partendo da Matano ad arrivare ad oggi insomma tanti tanti quasi tutti sono passati da noi però poi sono rimaste quelle persone che avevano voglia di costruire che non pensavano che riempendo il locale potevano aprirsi il locale da soli perché erano capaci o che avendo il locale con chi glielo riempiva non aveva più bisogno di chi glielo riempiva perché ormai loro potevano camminare con le loro gambe l'unico esempio positivo sono i me contro te sono gli unici quando noi ci siamo separati che sono riusciti ad andare avanti perché sono in gamba quindi avevamo puntato sulle persone giuste però quando una persona ha un tempo grammaticale diverso e usa l'io e non il noi vuol dire che lui non riconosce più tutto quello che tu hai fatto per lui pensa che tutto ciò che lui ha costruito lo ha costruito da solo e non lo abbiamo costruito insieme tu provi a spiegargli quanto la squadra e non l'individualismo è vincente ma se quella persona non lo capisce ti devi separare e loro sono gli unici che però essendo bravi hanno mandato una mail a tutti i nostri clienti quando sono andati via ma hanno fatto bene ma hanno retto sono cresciuti sono bravissimi tutti gli altri si sono persi perché non c'è solo il talento il più grande talento è la testa e molti di quelle persone oggi io vedo dei ragazzini il mondo di TikTok è paradossale perché io non ho fatto The Fouse che è centrato sul social TikTok ma all'inizio non lo volevo fare Giuseppe il mio socio mi ha detto siediti che ti mostro delle cose perché non è tutto superficiale perché era l'era in cui era musical.ly quindi il più bravo era quello che riusciva a fare il lip sync migliore con la miglior mimica facciale per me quello non è talento TikTok è una generazione molto arrogante perché mentre gli youtuber che è un po' una nerd culture nel senso che comunque questi ragazzi era molto il mondo dei nerd se vuoi i gamer il modo tech però gente che pensava che realizzava il video che lo editava c'è un grande processo registi montatori c'è tutto in un'unica persona quelli che fanno TikTok non sanno fare niente girano il telefono fanno un video fanno un milione di views e li scorreggia il cervello e a proposito delle scorreggie te lo dicevo prima gli ho detto ragazzi il successo è come una scorreggia davanti al ventilatore un ragazzino che perché ha fatto un milione di views si sente Michael Jackson mi dispiace per lui gli vorrei chiedere qualcosa in più sulla sua vita sull'educazione che ha ricevuto e quindi con quelle generazioni lì io non mi riesco a confrontare non con quelle generazioni con quella mentalità lì io non riesco a parlare con l'arroganza nel senso che non è compatibile con me se vedo che una persona è arrogante perché è insicura e si sta proteggendo allora entro con amore e gli mostro delle cose ma quando una persona viene da me e io non sono nessuno ho solo una cosa in più di questi ragazzini l'esperienza e quando vengono a parlarti quasi come se fossero illuminati sulla vita non è fastidioso capisci che non c'è non ci sono le fondamenta per costruire quindi tutte quelle persone oltre me contro te molti dei nomi che ti ho fatto ci lavoriamo ancora chiaramente insieme ma molti altri si sono persi là dove il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore e uno dei lati oscuri del digital secondo me sono i numeri i numeri sono una cosa terribile e sono un tesoro perché da una parte il tesoro possiamo pensare ai soldi ed effettivamente molte volte è questione di soldi a un certo punto si cresce si cresce si cresce la concupiscenza il fatto che tu vuoi vuoi fare più soldi ma perché quello deve guadagnare questa percentuale io me lo posso fare da solo e questo ti porta poi a dividerti e è praticamente sempre questione di soldi ma c'è un nuovo denaro e questo l'ha introdotto il mondo digitale che sono questi numeri per cui tu hai detto il tiktoker dice io ho fatto un milione di views quello dice io ho un milione di iscritti cioè guardano questi numeri non si rendono conto molti che sono un laccio sono qualcosa che li rende schiavi perché poi nella dinamica della piattaforma dove tu comunque sei un fenomeno passeggero non gli importa sei un utente anche tu creator sei un utente sa la piattaforma che quando tu non ci sarai più ce ne sarà un altro e quindi ti dice se vuoi fare i numeri continua ci sono quelli che studiano le dinamiche della piattaforma per fare tante visualizzazioni per fare tanti iscritti devi fare due video a settimana diventi un robot uno schiavo ti lancio un po' una provocazione perché ecco tu hai tirato fuori il tinnova hai parlato del blog l'altro giorno parlavo con Marco un ragazzo di 15 anni e gli ho detto blog bello blog ma che cos'è un blog cioè non sapevo per me il blog è una cosa super innovativa l'ho visto nascere l'ho visto crescere l'ho visto The Blonde Salad ne parlavo durante i corsi le persone sgranano gli occhi no come è possibile e invece ormai quello è praticamente vintage ho avuto l'impressione che parliamo di YouTube si sia giocato un gioco su due fronti da una parte broadcast yourself una promessa un'opportunità per tutti di broadcast cioè di raggiungere trasmettersi e quindi avere un impatto sugli altri sullo spettacolo non so arrivati in televisione perché mi ha raccomandato qualcuno perché no l'ho fatto da solo ci sono io dall'altra parte ricordo i primi incontri che faceva YouTuber con i creativi italiani già loro per dirti che YouTuber andava alla grande ti dicevano siamo la prima televisione al mondo se guardiamo i numeri famosi di prima allora questa cosa un po' mi entra in conflitto perché YouTube è il mondo dei social media possiamo metterci Twitch TikTok è un'opportunità per il singolo o comunque è una gigantesca macchina di recruiting dove si fa fare creatività e loro non si rendono neanche che stanno facendo un lavoro e la piattaforma alla fine è come il banco che vince sempre io i numeri quando parlo con un creator non parliamo mai di numeri io uso i numeri con i clienti perché ovviamente in quel caso tu stai vendendo un media quindi cambia tutto col creator un altro nome di un creator con cui lavoriamo è Yotobi allora lui fa il suo late show quindi lui è uno stand up comedian quindi il tema è che su YouTube se tu prendi molti di loro non sai attribuirli in una frase quello che fa fanno tutti uguali cioè entertainment ho capito ma cosa quindi uno come Yotobi si è differenziato e il tema è che chi è nato nella piattaforma quando non era nota non la piattaforma quando non sapevano che potevi avere successo sono i veri creativi sono quelli che senza un vero motivo si sono buttati lì a sperimentare per poter essere dei futuri registi per poter essere qualcosa ma oggi la maggior parte vengono vengono adesso su TikTok perché è più semplice ma così come guarda su Instagram cioè chi si fa la foto la donna prorompente ma che cos'è quella roba lì cioè quindi il tema è che oggi proprio perché prima una voleva fare l'avellino il calciatore perché era un modo per dire faccio i soldi no e oggi è faccio i social per fare i soldi e tutti coloro che pensano questo sono coloro che sono la scoreggia davanti al ventilatore magari riescono a averlo exploit ma dopo tre minuti non sono più nessuno quindi il problema è che la gente ti segue se c'è veramente la magia del divertimento del fatto che tu stai facendo quella cosa perché ti piace e tutti gli egocentrici tutti gli arroganti facci caso sono tutte delle meteore quindi il problema che oggi è stato molto fuorviante il fatto che tanti di loro siano diventati noti cioè noi con Favij per far sì che la professione non è una professione però che lo youtuber fosse una figura riconosciuta abbiamo detto facciamo il primo album di figure di Panini quando Panini gli ho detto Favij mi ha detto ma cos'è un DJ gli ho detto no ma hai un figlio si chiama la casa papà conosci Favij fammi avere un video quindi abbiamo fatto un film al cinema abbiamo fatto dieci programmi su Sky con lui tante cose proprio per cercare di far sì che per tutta Italia loro erano i nuovi artisti cioè non devi avere l'Ugo Ladoro e cantare per essere un artista loro non li vedevano come degli artisti erano degli youtuber ma cos'è dispregiativo questo termine sono degli artisti del mondo video cioè prima con la scultura con la pittura oggi l'arte la esprimi in video ok quindi il tema è che chi la sa esprimere in Italia sono pochissimi gli artisti veri nel mondo video non sono più di dieci sono pochissimi e magari sono quelli che guadagnano di meno perché se ne Yotobi su 50 cose che gli proponevi perché oggi poi ovviamente quando affini una relazione sai anche fare il cecchino proporre le cose giuste e amplificarlo nel modo giusto ma erano 49 su 50 le cose che rifiutava lui non voleva assolutamente compromettere in nessun modo in maniera anche quasi troppo nazista se vuoi nel senso era troppo chiuso perché per lui la cosa più importante era il suo show era il suo contenuto e quindi per lui il brand era satana e sono quelli che stimo di più perché loro sono gli artisti veri oggi invece tutti i ragazzi sono degli alberi di Natale metti 200 palline in Italia tutti swipe up sembra evoluzione delle televendite noi non facciamo quella roba è uno schifo quando mi dico voi gestite influencer no un influencer è la televendita io non sto disprezzando delle categorie sia chiaro ti sto solo raccontando il lavoro che faccio noi lavoriamo con dei creator uno dice creator e cos'è creator è un creativo è un produttore di se stesso è un regista è una persona che è super open mind in televisione c'è quello che ti scrive il copione quello che gira quello che monta questi fanno tutti da soli e io loro li amo li stimo perché so che con loro possiamo veramente alzare il tiro perché oggi purtroppo gli adulti hanno una bassissima considerazione di quello che c'è sui social perché c'è il trash perché il trash ti fa numeri ma quella è merda cioè oggi qual è la piattaforma quest'anno su un target un po' più adulto quindi over 18 è Twitch però se tu guardi chi fa 10.000 viewers 20.000 sono tanti quindi persone contemporaneamente bestemmiano cioè per me è inconcepibile una roba del genere quindi ma io faccio 20.000 lo so ma tu sei non solo invendibile a qualsiasi brand ma sei eticamente un cattivissimo esempio non che sei una cattiva persona ma a me fa schifo ciò che tu fai quindi io apprezzo gli artisti veri quelli che 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 lottano quelli di nicchia no? quelli che ci credono in quella roba lì e da lì si costruisce ce ne sono pochissimi in Italia io quando ho cominciato ad appassionarmi a YouTube guardavo gli smosh guardavo Rémi Gaillat l'inventore del prank dove le iene dove tutti tutti gli entertainer nel mondo hanno preso esempio su di lui lui era quello che faceva Mario Kart prendeva il kart andava in autostrada Pacman nel supermercato un pazzo ma un creativo incredibile quindi in Italia quella roba non c'è ce ne sono pochissimi e quando io mostro ai miei amici ogni tanto un po' di video spettacolare ma perché io amo e quando mi dico ma in Italia in Italia raccontano tutti i cazzi loro e fanno i vlog nel senso che non c'è quella spettacolarità in Italia c'è pochissimo talento un po' come gli impressionisti sono morti in bolletta però poi sono rimasti perché c'era una dignità artistica perché si differenziavano e si differenzieranno sempre nel tempo rispetto alle nuove l'accademia l'accademia faceva i soldi però non li volevano al salon e si sono creati un loro salon molte persone pensano che fare youtube fare il creator voglia dire guardarsi un po' di tutorial su come si crea il canale su come si cresce fare iscritti mettersi davanti alla telecamera però guarda il modello che utilizza un altro che invece è famoso e quindi così con la stessa telecamera avrà lo stesso risultato imitare quello che fa qualcun altro e poi più o meno succederà che fai i numeri da quella che è la tua esperienza e il tuo lavoro in realtà le cose vanno molto diversamente di così allora ti chiedo Luca mi racconti io non so niente di youtube mi racconti come succede che una persona può attraverso il mondo digitale youtube twitch quello che sia avere un impatto grosso non parlo solo di fare i numeri con il video virale ma diventare un vero creator che cosa succede e quali persone servono intorno perché uno potrebbe dire manager infrastruttura intorno potrebbe non servire faccio tutto dalla mia cameretta broadcast yourself qual è la realtà del creator digitale allora quando tu parli di copiare come ti ho spiegato prima noi abbiamo aperto The Fouse e siamo partiti da una reference che è Sway House a Los Angeles quindi ispirarti a una cosa copiare un'altra copiare è una roba brutta lo vedono tutti quindi il fatto di avere delle reference quindi delle muse ispiratrici quindi avere qualcosa che ti ha stimolato è molto figo da lì parti però per fare una tua cosa personale la risposta è per cercare di avere una credibilità e un pubblico non ha importanza che tu facci un milione di views se ne fai 80.000 qualitative sono eccellenti devi avere una personalità unica se tu se tu mi dici ma oggi un creator che parla di cucina ha spazio visto che lo fanno tutti certo basta che lo faccia in modo completamente diverso potrebbe avere spazio una persona che ha vita a bulloni potrebbe avere spazio chiunque però l'importante è che sia unico nel suo genere e quindi a cosa serve a quella persona intanto se non sono creativi non ce la faranno mai tu puoi avere il più grande team del mondo se quel più grande team del mondo ti fa fare l'interprete non sei non hai un'anima quindi il cuore pulsante deve partire da loro e tu perché loro sono sempre timidi e non hanno mai magari il coraggio di dire quello che sognano e quello che vorrebbero essere invece è possibile quindi io gli chiedo sempre la prima domanda che faccio è dimmi la meta dimmi l'obiettivo perché sei qui perché vuoi fare questo lavoro perché lo stai facendo non oggi cosa vuoi diventare dimmi dove vuoi arrivare quando abbiamo parlato anche su di me prima nessuno ha la risposta a questa domanda allora gli chiedo di tornare a casa di tornare qui ritornare qui quando hanno la risposta perché se non hai una meta non puoi costruire nulla non puoi vivere la giornata quando hai una meta ed è condivisa artisticamente allora costruisci il percorso a ritroso per arrivare lì quindi a cosa serve avere una squadra ad amplificare editorialmente artisticamente darti gli strumenti quindi io Tobi a Torino non riusciva a fare il suo light show gli abbiamo dato gli studios gli abbiamo dato tutto ma se lo scrive lui con un suo amico l'anima è sua e noi abbiamo creato il packaging intorno e costruito tante altre relazioni intorno per far sì che quella roba domani possa essere una serie su Netflix o un'altra cosa quindi ma l'animo creativo parte da loro quindi un ragazzo per amplificarlo deve avere deve avere quella magia ma in Italia te l'ho detto ce l'hanno pochissimi quindi tutto sulla creatività non fissarti nei trucchetti per aumentare gli iscritti nelle dinamiche della piattaforma tu? no ma poi dopo noi abbiamo un'altra società che si chiama Grow Up Network che è un MCN quindi dopo entriamo in quello che è il DNA della piattaforma di come meglio performare ma se ti fai quella come prima domanda e allora sei quello che non fa scattare la magia perché sei un robottino che ha un obiettivo diverso di fare numeri mentre c'è l'idea e c'è la squadra giusta e noi adesso ogni settimana stiamo partorendo un nuovo canale YouTube prodotto da noi adesso c'è un ragazzo che si chiama Raffaele Nistor faremo cucina quindi cucina muta ASMR quindi amplifico i suoni con un sound design pazzesco ed è un nuovo modo di fare cucina la settimana dopo faremo un canale di fitness abbiamo Danny Lazzarin che oggi è il più grande in Italia di canale e lo faremo in modo diverso quindi ma i numeri prima non ce ne frega se facciamo 6.000 views perché così almeno abbiamo poca gente che può dirci che quella roba è sbagliata sperimentiamo quando siamo orgogliosi e abbiamo trovato la retta editoriale allora ci mettiamo la strategia che non è paid media non l'abbiamo mai fatto possono essere collaborazioni può essere ma dalle cose basiche se sei su YouTube dall'immagine di anteprima dal titolo dal metadata dal tag da una serie di altre cose ma non c'è bisogno che gli spieghi questo al creator il giorno 1 concentriamoci nel fare la cosa che ti rende orgoglioso e che quando la guardiamo diciamo wow questa cosa è forte miglioriamola e poi ci mettiamo il boost ma perché devo accelerare se accelero una merda divento una grande merda quindi devo prima creare l'opera d'arte e molte volte non viene fuori quindi riparto da capo magari pensavo alla cucina con la stessa persona che magari anche non lo so è la passione delle sneakers allora troviamo magari di più la strada di là sperimentiamo tantissimo investiamo tanto in quello tantissimo proprio in in produzione in creatività tantissimo però tutte le strategie che conosciamo e sono cose molto ortodosse ovviamente ma non serve mettere quel piccolo viagra strategico se l'embrione è una pappamolla se fai non so se ti ho risposta alla domanda perfettamente se fai le cose che fanno tutti gli altri avrai risultati che hanno tutti gli altri e una cosa che mi ha colpito è che tu non hai il telefono cellulare non lo utilizzi l'unico modo per parlare con te è via email e per me questa è una cosa molto importante prima di tutto perché sei una tra le poche persone che conosco che anzi sei l'unica persona tra quelle che conosco che vivono nel mondo nel senso che non sono eremiti monaci che non utilizza lo smartphone non utilizza il telefono cellulare e anche perché da tempo io pensavo che questa fosse un pochino la chiave per vivere un'esperienza diversa della realtà mi racconti com'è la tua vita senza cellulare quali benefici hai cosa ti ha portato a prendere questa decisione apparentemente piccola ma forse anche grande beh ti racconto com'era la vita col cellulare se vuoi perché partirei più da lì nel senso che io ho cominciato ad allenarmi su questa cosa per dieci anni in vacanza non portandolo e mi godevo ogni singola cosa che vivevo in quel momento e tornavo proprio sai quando dici rigenerato e appena rientravo basta una telefonata basta un messaggio e ti dà quel piccolo affondo quella bad vibes nel senso che ti dà questa vibrazione sbagliata e soprattutto sei schiavo di chiunque vuole parlare con te sei sempre raggiungibile perché con gli smartphone tu hai mai spento lo smartphone non si spegne lo metti in modalità aerea c'è magari il wifi ma poi a parte che tu mi hai raccontato le cose bellissime ma le dici tu se le vuoi dire quindi anche tu fai una vita molto molto bella molto pulita molto valoriale però ritornando su di me tu come dicevo prima sei a cena con la tua famiglia ti squilla il telefono non vuoi rispondere però butti un occhio sul display e tu mentre sei con la tua famiglia pensi a quella persona telefonata che dovrai fare dopo non ti lascia mai in pace ma il vero colpo di grazia per cui ho lasciato il telefono sono stati i vocali perché il vocale la gente tende ad essere molto prolissa poi soprattutto questi ragazzini che magari non scrivono bene l'italiano per non far vedere che fanno gli errori grammaticali vanno di audio però per dirti che ne so che la giornata è uggiosa ci impiegano sette minuti e io sono una persona che non vado a dormire se non ho smaltito mail ai tempi i vocali più dei messaggi i messaggi non esistono più non so neanche perché c'è ancora applicazione nel telefono non esistono più i messaggi sì esistono in Whatsapp ma il messaggio tradizionale di un tempo non esiste più era diventato un lavoro quindi lo devi ascoltare e quella persona che magari ti ha mandato un vocale e si è scordata che tu lavori di giorno e non gli hai risposto nell'ora successiva si agita allora poi ti manda un messaggio scritto su Whatsapp poi ti chiama ed è una schiavitù quindi diciamo che io mi voglio godere ogni singola cosa che faccio ed è una distrazione terribile ma poi il cellulare era più forte di me perché mi svegliavo con il telefono in mano e mi addormentavo col telefono in mano non ero in grado quindi ha vinto lui non ero in grado di non farlo perché sai che c'è quella cosa ipnotica inconscia è come quando sei su alcuni social e scrolli scrolli perché parte tutto in autoplay e dici sono le tre del mattino sono passate quattro ore ecco io non voglio questo quindi ho deciso che avrei voluto una vita schermata pulita privilegiata quindi una persona che è pigra mi manda una mail quindi vuol dire che avrà il dono della sintesi sicuro 100% e mi permette di mettere delle persone in coppia che magari possono lavorare con me su quella cosa lì ti devo dire che me lo hanno chiesto spesso se mi aveva mai creato un deficit nel lavoro il fatto di non essere raggiungito mai una sola volta mai ovviamente ho un ipad con una sim vuol dire che le mail le leggo sempre se mi scrivi una mail e non sono in una con un appuntamento questione di pochi minuti rispondo alla tua mail però mi permette di poter essere in qualsiasi posto protetto cioè se sono in palestra in piscina a leggermi un libro non c'è nulla che mi possa disturbare se non un essere umano che mi chiama che mi dice Luca ma il telefono no cioè io mi ero ritrovato io non ho la macchina e giro in scooter e mi ero ritrovato a scrivere le mail guidando ho detto un giorno mi faccio male quindi ma sapevo razionalmente che era estremamente sbagliato ma lo continuavo a fare e per quello che ti ho detto che il cellulare era più forte di me quindi per tutto un insieme di motivi ho deciso che volevo avere una vita pulita vivermi pienamente ogni singolo istante senza avere l'interferenza del telefono ti dà fastidio quando vedi gli altri che vivono una condizione diversa e chi ti sta intorno come ha preso questo cioè tua moglie che l'ha accettato semplicemente le persone hanno accettato di non potersi mettere in contatto immediatamente con te beh allora guarda io ho l'app di telegram sul mio ipad e ho meno di dieci persone di cui la maggior parte è la mia famiglia quindi mia figlia mia moglie i miei fratelli mia mamma e quindi mi scrive lì avendo l'ipad in mano se ha un'urgenza chiedo a qualcuno di fianco a me mi presti il telefono chiamo dall'ufficio però tendenzialmente mia moglie l'ho apprezzato perché era una di quelle persone che mi diceva stai sempre sul telefono quindi tiravo fuori veramente la parte peggiore di me poi il telefono ti rende nevrotico sei disturbato quando qualcuno ti chiede qualcosa un attimo sei indispettito perché magari stai scrollando guardando delle stronzato stai scarellando nelle tue cartelle non fai neanche niente per me è una cosa nociva non per la gente per me lo era per me quindi devo dire che tutte le persone che mi circondano l'hanno presa bene non hanno mai appunto vissuto un malus rispetto a questa cosa si mettono in contatto come facilmente e poi conoscono la mia vita quindi sanno esattamente come prendermi a me il covid mi ha mi ha sicuramente penalizzato perché per me l'empatia è tutto nella vita quindi il fatto di non poter parlare con le persone vis a vis quindi essendo vicini avere quell'energia mi è mancato molto quindi io piuttosto che parlare al telefono poi uno dice aspetta verifico ti richiamo vediamoci 30 minuti e ci mettiamo anche la parte umana chiudiamo la partita cresciamoci diciamo un sacco di cose belle con gli sguardi con l'amore con l'affetto cioè la chiudiamo sempre bene il telefono è quasi un preliminare per poi andarci a vedere è una perdita di tempo la gente mi dice no ma io con la vita che faccio non potrei mai non avere un telefono e io non voglio fare il fenomeno dicendogli ma guarda io veramente ricevevo boh non lo so ma ha un'altra rovina dei telefoni i gruppi i gruppi whatsapp dove tu non vuoi essere quindi notifiche ne ricevevo tantissime e gli ho detto ti credo ma credi tu me basta volerlo semplicemente questo io sono andato a fare un percorso nella mia vita te ne ho parlato prima nel 2008 che si chiama Hoffman dove sono andato a capire le radici le radici del mio io sono andato a conoscermi sono andato a guardarmi in maniera profonda e non dover essere più vittima delle mie frizioni emotive delle mie delle mie reazioni e ovviamente lì il telefono tu non lo usi credimi quando è acceso nel 2008 il telefono dopo essere uscito a questa esperienza dove per otto giorni come ti dicevo non puoi leggere non puoi non puoi sembra troppo una restrizione diciamo che per stare nel tuo io non hai appunto queste distrazioni quindi non puoi non leggi non stai sul sul computer non ti masturbi ti ho fatto questo esempio prima non fai nulla figurati il telefono che violenza che è quando lo riaccendi ti arrivano tutte quelle notifiche lì però alla fine ho continuato ad usarlo quattro anni fa dopo più di 25 anni di lavoro intenso ho deciso che non amavo più la mia vita lavorativa avevo un socio che non che non ho più da 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 un paio di mesi che tendenzialmente io gli ho detto guarda io mi sento molto solo nel senso che ho per riprendere il tuo termine ho una visione però me la racconto da solo cioè tu scrivi le mail mentre io ti racconto una cosa e mi fai parlare per due ore gli ultimi cinque minuti alzi la testa e mi dici scusa puoi ripetere e quindi mi ha fatto fare tanti errori non poter avere un consiglio esterno e allora gli ho detto ho bisogno di staccare non so dirti se torno e quando tornare torno sicuro perché affronto tutto nella vita ma non so quando 18 luglio ritorno a nella seconda decada di settembre mi godo la mia famiglia faccio il mio primo viaggio da solo con mia figlia faccio un viaggio da solo con mia moglie quindi senza i bambini ho camminato ho guardato quello che avevo intorno io vivo a Milano ma non so un cazzo di quello che mi circonda perché non lo guardavo quindi chiamavo mia madre con il telefono di mia moglie ma cosa che non facevo mai sono riuscito a godermi veramente tutto quello che ho visto in quel momento e quando sono tornato e ho acceso il telefono e non si è arrivata e le notifico ho preso il telefono e l'ho buttato in una patumiera ed è stata l'ultima volta quindi quello che nel 2008 dopo l'Hoffman avevo avvertito ma non avevo fatto quel passo perché ho detto non potrò mai farlo io come non potevo prendermi otto giorni senza lavorare per andare lì ma poi è stato possibile mi ha reso un uomo migliore quindi le cose più belle nella vita ti succedono quando hai un pensiero di ammettamento opposto lì ti sorprende e quindi alla fine di quel settembre di quattro anni fa ho buttato il telefono e non tornerai mai più indietro per nessuna ragione al mondo cioè se mia mamma si dovesse ammalare e dovesse aver bisogno di parlare con me prendo un telefono senza UMTS internet quindi chiamami quando vuoi ce l'hai solo tu il numero quando poi starai meglio perché starai meglio lo butto quindi non tornerei mai più indietro perché ti ripeto sono quelle cose io spesso faccio la battuta quando hai un'ancora negativa dico hai un pipistrello nelle mutande no e il telefono so che se lo lo riprendessi adesso mi riporterebbe dove ero prima mi andrebbe a a battere a sconfiggere una volta ancora e quindi io non sono arrogante da sfidare un qualcosa di più forte di me ne sto alla larga non è un modo codardo è un modo strategico sono rimasto colpito due anni fa a Lisbona era novembre quando ho sentito dire a Tim Berners-Lee che quello che l'ha inventato il web era molto preoccupato perché il 50% dell'umanità aveva accesso a internet e ora c'era l'altro 50% e quello che era successo nel primo 50% a lui non gli era piaciuto per niente perché lui internet l'ha inventato per fare una cosa e poi su quell'internet stanno succedendo delle altre cose come vedi tu internet il web che cosa diventerà cosa vedi in avanti dal tuo punto di vista il cibo è buono se esageri puoi diventare bulimico se esageri può farti del male se lo sai dosare è un piacere della vita incredibile internet ha tolto qualsiasi tipo di frontiera ti permette di avere veramente accesso a tutto tu mi hai detto poi taglialo se non vuoi che si dica mi hai detto a casa mia io non ho la tv abbiamo solo libri quindi siete una famiglia di persone che approfondiscono che si che si godono certe cose e un tempo alcune risposte le avevi solo sui libri il fatto oggi di avere internet e di saperlo usare bene ma di poter fare qualsiasi tipo di ricerca quando io ho una visione di avere tutto a portata di mano per me è una cosa pazzesca cioè per me internet è una cosa strepitosa ma se ne abusi ovviamente diventa una malattia il problema adesso mi fa entrare in un discorso che non voglio toccare perché se noi entriamo nel virus nei vaccini e non voglio entrare in questo argomento però se tu guardi Davida Attenborough mi sembra che si chiama così la vita sul nostro pianeta su Netflix quindi una persona di 93 anni è uno dei primi reporter nel mondo a documentare ciò che stava accadendo ti racconta come l'ambiente cioè lui ti racconta che quando è nato c'erano due miliardi di abitanti oggi siamo 7.8 facciamo 8 e ti racconta ti dà dei livelli quindi gas terra tutta una serie di cose ti fa vedere come l'umanità sta distruggendo l'ambiente e ti riparla dell'era dei dinosauri dove ci sono voluti 65 milioni di anni per ricreare l'umanità nel nostro pianeta che risposta ti posso dare rispetto all'internet che rispetto a quello sicuramente sono preoccupato per le mie generazioni future per i miei figli sono molto preoccupato di dove stiamo andando perché come ogni cosa c'è una speculazione da tantissimi punti di vista non solo economiche ti ripeto non mi voglio cimentare in un discorso perché dopo rischio di aprire delle parentesi che magari non possono diventare scomode dobbiamo prestare attenzione a noi stessi a quello che accade noi quando lo siamo a quello che noi facciamo dobbiamo stare attenti alle piattaforme che arrivano come se fossero uno strumento che però quello strumento è anche una società che ha degli azionisti e che quindi crea delle dinamiche che creano il loro profitto non è detto che creano la mia felicità a chi dobbiamo stare attenti a che cosa dobbiamo guardare per creare un internet che sia veramente un'opportunità che sia un bel pranzo che ti soddisfa ti fa fare un'esperienza di socialità ti fa stare bene non è qualcosa che ti trasforma in una persona peggiore e allora usalo come se tu fossi davanti a tutti quindi quando fai una cosa di cui ti vergogni in quel momento non farlo cioè fai finta che ti stanno guardando tutte le persone che ti conoscono guardano esattamente quello che stai facendo e quindi non andare oltre a quella linea è la risposta più semplice che mi viene da darti ma però vorrei dartene anche un'altra visto che si parla di bambini molto giovani che hanno perso la vita e si continua a dare sempre la colpa a queste challenge a volte che non esistono le cerchi dici ma dove sono quindi un po' facile ogni volta io direi perché i genitori magari non stanno meno sul telefono e stanno un pochino di più dietro ai loro figli e magari quando usano internet interessarsi di ciò che loro stanno guardando più di quello che facciamo noi cominciamo a farlo sui nostri figli perché per noi internet è arrivato durante il corso della nostra vita i nostri figli ci sono nati ok tu dicevi che non è attivo in casa io ho una televisione in casa mio figlio usa il telecomando dei poltivi e lui smanetta in una maniera incredibile poi è tutto limitato quello che può fare però per loro è una cosa normalissima come per noi giocare ai giochi elettronici o fare altre cose ai tempi però sono lasciati troppo liberi questi bambini qua cioè io comincio a vedere troppi solchi sui bicchieri ai ristoranti di telefoni appoggiati per far sì che il telefono faccia da babysitter che si guardano il cartone così non rompono i coglioni i genitori che possono parlare io ripeto siamo in un paese che mi infastidisce per quanto è perbenista molto ma io ho l'attenzione più che agli adulti verso gli adulti direi gli adulti verso i ragazzi che abbiamo noi deciso di mettere al mondo loro non ce lo hanno chiesto e vedo per lo stesso valore ipnotico che ha avuto il telefono su di me quindi che ti irrita che quando qualcuno ti disturba ti fa innervosire i genitori sono troppo lì dentro e non li stanno guardando vedendo crescere gli adolescenti di oggi i genitori non li conoscono neanche se li ricordano amore la mia bambina il mio bambino ma ha 18 anni cazzo si fa i cannoni non ti sei reso conto non che sia grave però lo sai gli spieghi che questa cosa si l'ha fatta anche il papà ma affronti gli argomenti perché non affrontano niente a tavola i figli hanno il telefono in mano e anche i genitori non si parlano ma basta andare al ristorante vedi i giovani tra di loro che sono allo stesso tavolo e non si parlano se no quando arriva il piatto fanno la foto lo commentano mancano e guardano il telefono è un problema ma questo è figlio dell'educazione perché qualcuno l'ha educato questo ragazzo per far sì che faccia questo e sei tu papà tu mamma che l'hai messo al mondo l'attenzione maggiore sta lì perché loro sono coloro che sono prossimi alle urne ma loro non sanno niente di politica perché abbiamo aperto le fause perché abbiamo voluto cercare di trovare un modo stimolante di far sì che i ragazzi prestassero attenzione all'informazione sono pigri hanno l'attenzione del pescionino nemo non sanno che te lo dicevo prima come battuta che Mario Draghi mentre ci parliamo in questo momento febbraio 2021 è il nostro presidente del consiglio non sanno niente questa gente deve andare a votare e chi vota? il più carismatico quello che gli dice l'amico? cavolo no non possono non sapere nulla e sai qual è il problema? è che se i tuoi genitori da ragazzo non ti hanno abituato a guardare un telegiornale o parlartene loro di quello che sta accadendo e quando tu hai 18-20 anni quella roba lo puoi fare l'abbiamo detto prima non siamo mai schiavi del nostro passato noi siamo assolutamente protagonisti di quello che stiamo per diventare però i genitori cioè i primi anni della nostra vita sono quelli che creano le radici se non ne abitui i tuoi figli a fare questo ad approfondire ad essere interessato a dare attenzione alle cose questa è la cosa che mi preoccupa di più però rispetto agli adulti ribadisco ciò che ti ho detto prima usa internet esattamente come lo useresti davanti agli altri non fare schifezze che ti provocano una vergogna in te stesso e penso che con questo hai detto tutto che non vuol dire non andare a vedere un sito pornografico ti voglio andarla a vedere valla a vedere anche io sono sposato e guardo i siti pornografici se ne ho voglia non c'è nulla di male però poi sul web ci sono tante cose oscure terribili ma non entriamo neanche nel merito di questo basta non guardarlo le chiami terribile ma perché lo sai e quindi non cimentarti neanche in quella cosa però ripeto è un argomento dove purtroppo ho una visione di quello che è il presente e il futuro con purtroppo anche argomenti quindi non riesco a trovare vorrei parlare con persone che mi mi mettono sul tavolo degli argomenti concreti per farmela vedere in modo più positiva la vita però sono molto preoccupato parlavo di ambiente ed è uno degli esempi però sono molto preoccupato di come dello stadio che abbiamo raggiunto in questo momento nel 2021 quindi per esempio questo documentario e quindi dopo il 47esimo minuto ho detto spengo smetto ok ti mostra il mondo nel 2030 nel 2040 quindi è una logica evoluzione di quello che è stato in questi decenni quindi non è una supposizione ci sono numeri scientifici ho spento perché ho detto nel 2040 mia figlia quanti anni spengo ho un figlio di 5 anni spengo spengo perché se no non fai più figli se no ti condiziona però tutti noi possiamo cambiare qualcosa però non è facile non è facile per nulla Nel 2040 se no a a a a a a Grazie a tutti